Oggi on va parler d'un fenomeno che è très important pour la langue française. Il fenomeno della legatura, o in francese liaison, ok, la liaison, è un fenomeno fonetico molto importante perché viene, diciamo, utilizzato in tutta la lingua parlata, sostanzialmente, e letta, insomma. Per cui è importantissimo analizzarne le caratteristiche e vedere di che cosa si tratta esattamente. Come dice la parola liaison, che significa, appunto, legatura, la liaison è il legare i suoni tra di loro, suoni che normalmente non verrebbero pronunciati in finale di parola e che vengono, invece, pronunciati con la parola successiva per facilitare la pronuncia e la fluidità del discorso, d'accordo? perché al francese, come vi ho sempre insegnato, piace la musicalità. Di conseguenza, tutto ciò che suona male, il francese lo ripudia, ok? Quindi, vediamo un attimo di che cosa si tratta nel dettaglio. Fare la liaison significa pronunciare una consonante che normalmente, finale, che normalmente non si pronuncia, che quindi si chiama consonante muta, ok? Quelle che vi ho spiegato nella lezione di phonétique iniziale, ok? Quindi, le consonanti finale mute quando però vengono pronunciate, quando sono seguite da vocali o h muta, ok? Quindi è molto importante adesso vedere qualche esempio per farvi capire di che cosa si tratta. Vi ho messo nu, petit, vedete, due parole che già abbiamo trovato, noi e piccolo, e anche el e se. Se, scritto così, vuol dire questi o queste, quindi vediamo un po'. Allora, nu, petit, davanti a vocale si pronunceranno con la legatura nous avons et petit enfant. Vedete che vi ho messo tra parentesi i suoni dell'alfabeto fonetico? Perché quale s finale di nu verrà pronunciata davanti a vocale come z, 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 come z, giusto? E invece, davanti alla e, una vocale, la t si pronuncerà sempre t. Quindi petit, qua non c'è una consonante dopo, ma si leggerà petit quando è seguito da vocale. Quindi petit enfant, nous avons, e similmente, quindi el e se si leggeranno, elles ont, loro hanno, e ses eleves con i suoni z, z, z. Ecco qua. Boh. Quindi ridono sempre quando in classe dico z, z, z. Allora, andiamo a vedere subito. Quando si fa la legatura, appunto, che cosa succede ai suoni, perché appunto i suoni possono anche cambiare, quindi bisogna ricordarsi. Dicevamo che quando si fa la liaison con s o x, anche, il suono diventa z. Quindi proviamo a vedere. Les enfants, questo lo dico spesso, des hommes, degli uomini, les enfants sono i bambini, quindi les enfants, des hommes, poi abbiamo deux, due, che si dice, per esempio, deux amis, due amiche, l'ho messo al femminile plurale, questo z è ricordatevelo. Quindi la x si legge z, z, quando è seguita da vocale o accamuta. Quindi, quando cambia ancora il suono, bisogna stare attenti, perché quando si fa la liaison, la legatura con la d, con la d finale, questo suono diventa t, come se fosse una t. Questo per questioni fonetiche. Guardiamo un po' l'esempio, allora con la parola con, che vuol dire quando, per esempio, quand il voit, quand il, t, t, quand il voit, non quand il voit, ma quand il voit, quando lui vede, eccetera, eccetera, non ho continuato l'esempio. Ecco, quindi, quand il voit quelqu'un, il è timido, non so, il se montre timido, come volete. Quindi, quand il, ecco, quando è seguita da vocale, quand si legge quand, t, quella di lì. Stessa cosa, un altro esempio, grand, grande amore, potrò dire grand amour, t, t, ok? Quindi, ragazzi, qua va proprio l'imparato, nel senso che alla fine, vi abituerete a leggere correttamente, quando, e a sentirli anche questi suoni, è tutta una questione di abitud, eh? Non vi preoccupate. Allora, quando si fa la legatura, la liaison, con una nasale, creata con M, o, n, questa nasale, che per esempio suoni come, on, on, an, eccetera, così, li abbiamo visti nella phonetic, eh? Questa, questa nasale, M, n, viene pronunciata bene, quindi, si apre di nuovo, no? Si torna ad essere pronunciata, n e m, ovviamente per legare, sempre per questioni di legatura, giusto? Per esempio, son, l'aggettivo possessivo, diventa son ami, son, na, na, son ami, giusto? Ecco, quindi, n, non è più son ami, perché non sarebbero legati, giusto, questi suoni qua, quindi la nasale si apre, son ami, mh? Oppure, bon, buono, un bon élève, un buon alunno, non dirò un bon élève, ma bon élève, mh? Quindi, n, n, si torna ad essere pronunciato per legare, ovviamente, quella virgolina rossa è il simbolo della legatura, che ovviamente non dovete scrivere, è solo per farvi, diciamo, vedere. Si fa la legatura, ecco, qua è una nota bene, ve l'ho messo in arancione, Se abbiamo premier e dernier, primo e ultimo, vedete che la r è normalmente muta in finale di, no, di parola, ecco, seguiti però da vocale e h muta, qui la legatura si fa con pronier e dernier, che poi alcuni la facciano anche con la terminazione dei verbi della prima coniugazione all'infinito in er, è un po' elegante, però diciamo che alcuni la fanno, però, vabbè, è una cosa così, un po' un'opzione. Vediamo poi però gli esempi che vi ho messo qui, allora, le bureau, l'ufficio, quindi le bureau si trova au dernier étage, dernier étage, no, l'ultimo piano vuol dire, l'ufficio si trova all'ultimo piano, dernier étage, r, ok, con l'r ovulare che suona molto bene, r, l'r francese, l'r moche, poi abbiamo, poi, c'è son premier enfant, è il suo primo bambino, ok, quindi premier enfant, anche qua si può legare, perché premier e dernier, anche se hanno l'r finale muta, questa r la pronunciamo, se seguita da vocale, o h muta, on va a voir quelch'autre, come dire, qualche altro appunto esempio, qui di legatura, allora vediamo un po' qua, nelle varie frasi, stiamo applicando un po' le regole che abbiamo visto poco fa, io ve ne ho volute mettere per leggervele sostanzialmente, ok, on arrive tu, vi ho messo il suono da parte, n, n, quindi on arrive tu, arriviamo presto, deux vieux amis, z, 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 perché la x seguita da vocale, dicevamo che si pronuncia z, come qua, vedete, deux amis, quindi, deux vieux amis, set avec plaisir, è con piacere, t, no, la, è il verbo être, l'essere rimane muta, e nella legatura si pronuncia solo la t, quindi set avec plaisir, oppure, set intéressante, oppure, elle est très énervée, è molto nervosa, non nervosita, ecco, très énervée, z, 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 poi abbiamo cheselle, da loro, no, a casa loro, ches, z, anche qua, le chat, è sous un fauteuil, è sotto un divano, una poltrona, ok, quindi, suzanne, sotto un, devo eleggerlo z, anche qua, ok, quindi, poi, il est acteur, lui è attore, ok, anche qua, la t, che lega, giusto, on ne m'a jamais envoyé, semelle, anche qua, jamais plus, legano, anche plus, scritto plus, e quindi, jamais envoyé, molto elegante, questa qua, è questa legatura qua, quindi, z, z, anche qui, poi abbiamo, elle est allée, lei è andata, alla maison, elle est allée, alla maison, t, t, elle est allée, vedete come suona bene, attenzione però, che la liaison, non si fa sempre, ok, anche quando, la regola, della vocale, successiva, a una consonante mutta, sarebbe visibile, ok, non bisogna, farla sempre, ci sono dei casi, in cui, proprio non va fatta, per esempio, con l'ess plurale, di un nome plurale, e un verbo, per esempio, ok, se copine, envoie un message, o copine, envoie, non si legherà, in francese, quindi, non dirò, se copine, envoie, assolutamente no, se copine, envoie, ok, similmente, con nomi inizianti, con h aspirata, ovviamente, non h muta, come ero, eroe, quindi, le ero, non si può dire, les ero, ma le ero, ok, perché quell'h lì, ferma, diciamo, il suono precedente, le parole con h muta, sono poche, però, scusate, h aspirata, sono poche, però, ero è una di queste, quindi, les ero de ce roman, non so, sont sympathiques, non so, quello che è, di questo romanzo, eccetera, eccetera, comunque, non si fa mai, la legatura, con la congiunzione, e, mai, 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 quindi, esempio, Sophie e Yvan, sont amoureux, quindi, qui la legatura, la faccia, perché il verbo essere, vedete, sont amoureux, ma qui no, e, Yvan, e fa proprio eccezione, non lega mai, la congiunzione, e, è così, non potrò mai dire, Sophie et Yvan, assolutamente no, Sophie e Yvan, ok, non si fa mai, la legatura, neanche dopo, la seconda persona, singolare, in es, del presente, del congiuntivo, quello che volete, quindi, per esempio, non dirò mai, tu parles espagnol, no, ma tu parles espagnol, non dirò mai, je ne crois pas, que tu hais, encore là bas, no, dirò, semplicemente, je ne crois pas, che tu hais, che tu vada, sarebbe, no, encore là bas, il congiuntivo, lo faremo più avanti, c'è anche nelle lezioni, se volete vederlo, comunque, non dirò mai, ais encore, ma dirò, aie encore, e dirò, tu parles espagnol, senza la legatura, ok, si fa, non si fa nemmeno la legatura, con alcuni numeri, per esempio, vous êtes huit, non dirò mai, vous êtes huit, assolutamente, suona molto male, sentite che brutto, quindi, vous êtes huit, oppure, nous sommes onze, non nous sommes onze, troppe zz, in una volta, quindi, nous sommes onze, ok, sono alcuni esempi, ok, però, diciamo, ci sono alcuni casi, in cui la liaison, è facoltativa, quindi, diciamo, vabbè, si potrebbe fare, un'altra serie, di esempi, ma direi che, diciamo, la questione, sia sufficientemente, chiara, j'espère, avoir été complet, e suffisamment clair, si vous avez besoin, écrivez-moi, sans souci, a très bientôt, au revoir, a très bientôt, Grazie a tutti.